Siamo in Piazza del Maneggio, ci troviamo proprio alle spalle della Piazza Rossa, è qui che da quando il Cremlino ha cominciato quella che chiama operazione militare speciale in Ucraina, l'opposizione si dà appuntamento ogni domenica alle 14 per chiedere la pace. Sono in Piazza del Maneggio da appena un quarto d'ora e qui è una sequela continua di arresti, non ci sono tanti manifestanti, ma dopo l'ultima legge approvata, quella che punisce con 15 anni di carcere anche solo l'uso della parola guerra, manifestare è diventato davvero un atto eroico e basta poco per venire fermato. Le forze di polizia fermano chiunque, chiedono i documenti, perquisiscono la borsa, controllano anche se sarebbe legale il proprio cellulare, basta avere ad esempio l'icona di uno dei siti di informazione bloccati come Medusa o uno dei social vietati, ad esempio Facebook per finire nel mirino, come la ragazza che vedete alle mie spalle. Grazie. 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 Grazie.